Salve amici, buongiorno, finalmente l'attesa è finita, siamo ritornati. Io il meccanico, è lui, il nostro IPK. Quest'oggi ci troviamo a Cividale. La pressione, la pressione che mettiamo oggi. 6 e 2, 6 e 2, 6 e mezzo avanti e 6 e 3. Niente, uno prova a fare qualcosa di professionale ma è impossibile, è impossibile. Niente da fare. Comunque siamo a Cividale, compatti, è tornato patti, è riuscito a disincastrarsi dalla griglia. Noi siamo riusciti a ritornare a casa dal Texas, passando per il Messico, giusto? Per la dogana. Abbiamo dovuto sdoganare. Abbiamo sdoganato tutto, passato il telaio. Adesso abbiamo provato a fare un'altra modifichina con l'assetto. Abbiamo provato a mettere delle boccole scaricando di 2 gradi per vedere se riusciamo a migliorare un po' la guida. Ma il meccanico lavora e ora, come sempre, iscrivetevi, iscrivetevi, lasciate un like, un piccolo commentino, mi raccomando, è molto importante. Traduzione, di via. L'orario, l'orario è quello giusto? Cosa vuoi? Vai via. Non vi è in pioggia. No, esatto, sta piovendo, sta piovendo, sta piovendo. Noi dobbiamo entrare in pista a fare i video, fare gli youtuber. Patrizio, fatti, infatti è già andato, è la via. Ma piove. Il meccanico è sempre al dialogo costante con gli ingegneri. Ah! Allora, c'è volta, è via. No, no, non… Ass Avatar. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.